Musica Benvenuti al nostro TC Sport cari amici di Telemolise verrà inaugurata oggi pomeriggio, vedete questa è la locandina la mostra dei presepi, esattamente il mio presepe di Giovanni Teberino una bella rassegna di presepi che sarà esposta da quest'oggi fino al 6 gennaio presso il Museo dei Misteri in Via Trento a Campobasso tutti coloro che vorranno potranno visitare questa mostra nei giorni feriali dalle 16 alle 19 e 30, nei festivi dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 16 alle 19 e 30 intanto ieri la redazione sportiva di Telemolise ha presentato il calendario 2014 eccolo qui, lo abbiamo qui con la copertina dedicata quest'anno a Pietro Mennea un grande, un grandissimo, sicuramente il più grande dell'atletica leggera italiana che è scomparso proprio pochi mesi fa quindi abbiamo voluto proprio dedicare la copertina a Pietro Mennea che tra l'altro aveva un feeling molto particolare con Campobasso e con il Molise in generale ebbene, tanti gli ospiti che hanno affollato la sala della Biblioteca Albino tra l'altro devo ringraziare qui anche il quotidiano del Molise perché ci ha dedicato veramente una pagina a quella presentazione del nostro calendario quindi devo ringraziare l'editore Giulio Rocco e devo ringraziare anche Alfonso Sticca che hanno dimostrato grande sensibilità nei confronti di Telemolise e naturalmente anche della redazione sportiva che io rappresento dicevo, ieri sera c'è stata la presentazione del calendario presso la sala Albino vediamo il servizio Storia, passione e professionalità questo è il mix perfetto che ha reso credibilità al lavoro dell'intera redazione sportiva di Telemolise ieri presso la Biblioteca Provinciale Albino di Campobasso è stato presentato il calendario 2014 dedicato al grande atleta Pietro Mennea che molti suoi amici hanno ricordato con parole cariche di emozione chiaramente leggibile nel tono della voce dal presidente del CONI Giuseppe Ruffo a Enzo Barisciano passato e futuro hanno caratterizzato le due ore trascorse in compagnia di amici nonché dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni quali il comune di Campobasso, la provincia e la regione come l'anno scorso tanti amici sono intervenuti per ricordare anche altri uomini che hanno colorato di passione la storia dello sport in regione una fra tutte Mirella Scorrano figlia dell'indimenticato capitano Rosso Blu Michele che ha vissuto da protagonista gli anni d'oro di un calcio in città difficilmente ripetibile con orgoglio e tanta ammirazione l'intera redazione di Telemolisi ha accolto l'entusiasmo delle parole del piccolo Luca primo tifoso del lupo da cui tutti noi abbiamo molto da imparare Pietro Mennea diceva lo sport ha bisogno di progettazione, innovazione e impegno costante e ancora una volta Telemolisi vuole perseguire l'intento di offrire al suo pubblico un servizio sempre migliore grazie a tutti voi 12 mesi da trascorrere insieme alla redazione sportiva ma quest'anno anche la dedica come dicevamo ad un grande dello sport come Pietro Mennea anche quest'anno la nostra emittente ha scelto di realizzare il calendario della redazione sportiva un modo semplice per ringraziare tutti i nostri telespettatori una dedica particolare per il calendario 2014 a Pietro Mennea venuto a mancare pochi mesi fa la freccia del sud campione olimpico dei 200 metri piani a Mosca nel 1980 e detentore del primato mondiale della specialità dal 1979 al 1996 con il tempo di 19,72 che resta l'attuale primato europeo Mennea è stato in Molise diverse volte per il car ma anche per le prime gare della sua lunga carriera un esempio di sport e di vita per tutti quest'anno abbiamo voluto ripercorrere anche la storia della nostra emittente il mese di maggio e quello di novembre sono dedicati agli Oscar organizzati per nove anni da Telemolisi personaggi dello spettacolo che hanno calcato il palcoscenico dell'Ariston le sale dell'hotel Palma di Castropignano e dell'hotel Residence Le Cupolette di Vinchiaturo da Mia Martini a Don Bacchi da Ron a Fausto Leali ancora Gigi Sabani, Le Cacao Meravigliao e tanti altri che con un grande sforzo da parte della nostra emittente allora guidata dall'Elio Pallante negli anni 80-90 hanno permesso a questi grandi artisti italiani di scoprire il Molise un ricordo particolare anche per Enzo Bruno venuto a mancare il mese di agosto dello scorso anno tre mesi dedicati agli eventi sportivi di rilievo febbraio con lo storico gol di Ugolotti contro la Juventus 13 febbraio 1985 quando fu inaugurato il nuovo impianto di contrada a Selvapiana in uno stadio gremito da oltre 30.000 spettatori 22 agosto 1982 Michele Scorrano, capitano del Campo Basso e Giancarlo Antognoni, capitano della Fiorentina all'uscita dagli spogliatoi del vecchio Romagnoli in occasione della partita di Coppa Italia finita 1-0 per il Rosso-Blu con gol di Nicola Dottavio il mese di settembre con la foto della formazione del Campo Basso scesa sul campo di San Siro nel girone di andata del campionato di Serie B 82-83 partita finita con il risultato di 0-0 Sfogliando i mesi del calendario le foto di chi ogni fine settimana vi fa compagnia con le nostre trasmissioni sportive Domenica Sport con il direttore Antonio Di Lallo ed Annalisa Ciarlante e con le redazioni di Termoli e di Sernia a tutto campo con Mario Faraone e Benedetta Fazio che da quest'anno si sono lanciati in questa nuova avventura ma anche Gianni Bruno e Tabita Morgese con la trasmissione del lunedì Molise a Calci c'è chi va in video e chi invece lavora dietro le quinte con tutti i nostri tecnici ed i nostri corrispondenti pronti ad aggiornarvi da tutti i campi della regione In chiusura vogliamo ringraziare anche il fotografo ufficiale di Telemolise Gino Calabrese e la rental che ha curato l'impaginazione e la stampa di questo calendario 2014 di Telemolise Adesso il campionato di Serie D si gioca la sedicesima d'andata vediamo le partite in calendario Celano, Boiano, Civitanovese, Amiternina Fano, Maceratese, Fermana, Ancona Giulianova, Sulmona Isernia, Recanatese, Matelica, Olimpia, Agnonese Renato Curi, Vispesaro, Termoli, Iesina Di nuovo al Cannarsa il Termoli Domani arriva la Iesina per uno scontro diretto Dopo i due K.O. consecutivi in casa giallorossa torna il Sereno grazie alla vittoria di mercoledì in casa nel recupero del derby contro l'Olimpia Agnonese Tre punti che valgono oro visto che la squadra adriatica ad inizio campionato vive di alti e bassi allontanandosi ed avvicinandosi continuamente dalla vetta capitanata da l'Ancona Il Termoli attualmente ha sei punti dalla capolista con due match ancora da disputare prima della fine dell'anno e contemporaneamente del gironi di andata Precisamente domani in casa contro la Iesina ed in trasferta ma sempre in terra molisana nel derby con il Boiano al Colalillo C'è da dire che i nuovi arrivati in settimana si sono messi subito in mostra contro l'Agnone con Manzillo che ha provato a dare ritmo e qualità in campo e soprattutto Palumbo che con Miani lì davanti è riuscito ad andare in gol nei primi 90 minuti giocati insieme al nuovo compagno I due match prima della sossa natalizia potrebbero con due vittorie e qualche passo falso lì davanti portare il Termoli più vicino alla vetta L'obiettivo quindi per Giacomarro è prima di tutto portare a casa i sei punti e poi aspettare i risultati delle dirette concorrenti C'è da attendere anche qualora ci fossero da parte della società ulteriori movimenti da fare la prossima settimana nel mercato di riparazione Se ci saranno però altri arrivi e partenze di certo non dovranno recare sculibrio nella squadra anche se come si è visto in settimana contro l'Agnone i nuovi innessi non hanno fatto altro che bene a tutta la squadra Notizia intanto di ieri la cessione di Falco al Terracina Ritornando invece al match di domani il tecnico giallorosso dovrebbe schierare in campo il solito 3-5-2 con Patania tra i pali in difesa con Testa e Boggio Fusaro a centrocampo Viteritti di Mercurio, Basso, Manzillo e La Rosa coppia d'attacco Palumbo-Miani a dirigere l'incontro il signor Domenico Palermo di Bari In viaggio verso Matelica l'Olimpia Agnonese assente rolli per squalifica Per la sedicesima giornata del gruppo F l'Olimpia Agnonese fa visita al Matelica settimana intensa per gli altomolisani dopo la bella e importante vittoria di sette giorni fa contro la Cività Novese che ha ridato ossigeno alla classifica c'è stata la sconfitta nel derby di Termoli nel recupero della quattordicesima giornata Come si è visto anche a Cannassa il gioco c'è ma non è sempre a comando dei risultati urge quindi iniziare a far combaciare le due cose Mister Urbano di fatto ha avuto soltanto due giorni per preparare questa delicatissima trasferta l'undici che dovrebbe scendere in campo non vedrà Pietro Pifano in difesa appietato da un turno dal giudice sportivo ma qui le alternative non mancano con Bianchi, Lettereo, De Paolis e Antonelli che aggiranno davanti a Biasella centrocampo composto da Ricamato, Marisca, Wedde e Mancini con Di Lullo pronto ad entrare dalla panchina in avanti il colato a Doduo Famiano Morante voglioso di riscatto dopo le occasioni non concretizzate nel derby l'ultimo arrivato l'attaccante Troccoli entrerà a partite in corso per potenziare il reparto offensivo Capitolo mercato come ha precisato lo stesso presidente Carmine Masciotra dopo gli innesti dei vari Morante, Di Lullo e Troccoli alla rosa dell'Olimpia vanno soltanto un under e una punta di peso che garantisce quei gol che portano dritti dritti alla salvezza il DS Sabelli in questo senso ha lavoro per consigliare ad Urbano una punta in grado di fare la differenza e aiutare Famiano e Morante passiamo al Matelica i bianco-rosso allenati da Fabio Carucci sono in un ottimo momento vengono dalla vittoria per 3-1 sulla Renato Curia Angolana si trovano in piena zona pre-off con 27 punti in classifica e sul proprio campo hanno perso soltanto una volta quando fu il temone a violare il rettangolo marchigiano giocano con un classico 4-4-2 dove i punti di forza sono l'esperto centro-alambista Staffolani e il suo commagno di reparto Scotini mediano quest'ultimo dal gol facile occhio anche all'attaccante cacciatore abile nel gioco aereo trasferta quindi difficile per Famiano e Combani ma far punti delle marche darebbe un'ulteriore spinta positiva a tutto l'ambiente Granata a dirigere Matelica Olimpia Agnone si è stato designato il signor Nicolò Cipriani della sezione di Empoli coadiuato dagli assistenti di linea Dario Garzelli di Livorno e Alessio Scacchi di Arezzo Match salvezza all'Ancellotta tra i Serni e il Re Canatese per i Molisani in settimana nuove partenze Continua senza sosta il lavoro di sfoltimento della Rosa dall'Isernia da parte del nuovo DS Dino Pietrangelo a farne le spese questa settimana è stato il difensore Cagliazza che ha trovato la soluzione per il suo contratto ed è stato liberato ma continua anche il lavoro di rifondazione della Rosa infatti si aspetta lunedì per raggiungere l'accordo definitivo con altre due pedine dello scacchiere di Scagliarini il centrocampista Cardazzi e l'attaccante Bianchini passando al campo dopo la pronosticata sconfitta di domenica scorsa contro la capolista Ancona domani ci sarà una gara che potrebbe essere alla portata dei Biancocelesti infatti la sfida si gioca davanti al pubblico Isernino gara dell'Ancellotta e contro una squadra che ha soli 5 punti in più rispetto alla banda Scagliarini cioè la Re Canatese la squadra marchigiana si è mossa molta sul mercato mettendo a segno ben 4 acquisti solo in quest'ultima settimana Di Julio, Pandolfi, De Matteis e Narducci saranno già a disposizione di mister Pierantoni per dare una svolta al campionato che vede i giallorossi in piena lotta salvezza dal canto suo la squadra pentra è finalmente entrata a regime ed in settimana sono riuscite ad allenarsi da martedì fino alla rifinitura di questa mattina a pieno ritmo il tecnico ha lavorato molto sul punto di vista fisico e tecnico ma da quel che si è visto per domani la squadra bianco celeste dovrebbe scendere in campo con gli stessi 11 che hanno ben figurato al Delconero di Ancona e quindi Navarra tra i pali difesa a 4 con Corbo, Pepe, Squitieri e Pellegrino centrocampo sempre a 4 con Spasiano, Fontana, Galano e Colasante attacco con Panico e Riccardi per la gara di domani con inizio alle ore 14.30 all'ancelotta di Serna è stato designato il fischietto barese Nicola De Tullio coadiuvato dai signori Dario Gregorio e Giovanni Mittica anch'essi della sezione di Bari il Boiano dovrà andare a giocare a Celano anche questa settimana non ci sono stati movimenti di mercato né in entrata né in uscita non si sa a questo punto nemmeno chi scenderà in campo arbitro della gara Matteo D'Ambrogio di Frosinone per il basket in divisione nazionale B Venafro Molfetta in divisione nazionale C match casalingo per Lisernia contro il Potenza in C regionale oggi alle 18.30 al Palavazzieri il derby tra NBC e Termoli il quadro si chiude domani con il campo basket di scena ad Ortona gara casalinga per il Riva Limosani con il Teramo giornata intensa per le Molesanne impegnate nei vari campionati di appartenenza in divisione nazionale B il Venafro dopo la brutta sconvitta rimediata a San Severo ha l'occasione per riscattarsi tra le mura amiche al Palatepe de Montano infatti arriva il Molfetta squadra esperta della categoria che ha due punti in meno rispetto ai Venafrani è chiaramente la classica partita da vincere a tutti i costi contro una diretta concorrente per la salvezza in casa la squadra di Arturo Mascio ha sempre dato filo da torcere a chiunque ne è proprio la sconvitta rimediata dell'Agropoli che prima di giungere in Molise non aveva mai perso battute d'arresto i Venafrani dunque hanno una grande chance per mettere altro fiero in cascina contro un avversario che ha comunque elementi importanti da tenere sotto la lente di ingrandimento in divisione nazionale C l'Isegna non sta passando un bel momento molte sconvitte quasi tutte giunte sul filo di lana hanno condizionato il cammino dei Pentri che nelle prime parti della stagione era stato decisamente ottimo anche a Pozzuoli è accaduta la stessa cosa vista negli ultimi incontri gara equilibrata sino all'ultimo e vittoria sfuggita di mano per un soffio a facce e compagni che ora devono assolutamente ritrovare il successo che manca da troppo tempo al palafraraccio ci sarà come avversario il Potenza che all'andata venne battuto senza troppi patemi d'animo è chiaro che la posta in palio è alta e l'avversario di domani si presenta forse come il miglior possibile per poter ritornare a sorridere infatti i Lucani sono fermi al palo e quindi possono essere battuti a patto che non subenti la paura di vincere nei ragazzi di Cardinale a cui gli ultimi minuti di gara sono sempre risultati fatali in questa stagione nel torneo regionale Serie C sono due le squadre molisani impegnate di domenica il campo basket viaggia verso l'Abruzzo dove giocherà contro il San Vito Ortona squadra fortissima che è stata costruita per vincere il promosso che è tutta la parte degli abruzzesi ma c'è la consapevolezza nell'ambiente del campo bassano che si potrà comunque rispottare una gara di tutto rispetto arriva di Musani dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro il basketbolteramo si replica nuovamente all'arena si gioca contro selezione Teramana il Penta che all'andata viene piegata con un buzzer di Santella all'ultimo secondo i molisani sono con il morale a mille e potrebbero sfruttare questo momento di entusiasmo per poter piazzare il secondo successo consecutivo proprio a cavallo del giro di Boa Pallavolo prende il via oggi il weekend di gare per la nuova Pallavolo Campobasso alle 18.30 alla palestra di Villa De Capo a match casalingo per la formazione femminile di C regionale contro la Pallavolo Teatina alle 19 la formazione maschile di prima divisione sarà di scena a casa calenda il team femminile domani ospiterà alle 18 sempre il casa calenda campionato d'eccellenza si gioca l'ultima d'andata vediamo le partite Vairano Campobasso il quadro si chiude domani domani quindicesima giornata del campionato di eccellenza ai nastri di partenza la capolista Campobasso sarà ospite al marchese del prete di Venafro del Ro Caravindola la squadra Pentra nello scorso weekend ha vinto una vera e propria battaglia in campo rimasta senza portiere a causa di un grave infortunio e con un uomo in meno per via di una espulsione ha comunque superato il Gambatese in maniera sorprendente quella di domani per i Pentri non sarà una gara facile avendo a che fare con la notevole esperienza dei giocatori rosso-blu in campo che vorranno difendere la striscia di risultati positivi ora che a più undici dalla gioventù calciodauna il Fornelli al momento sul podio di bronzo insieme al sesto campano si incontrerà con il Montenero che non sta attraversando un periodo sereno avendo di fronte calendario alla mano una partita ostica dopo l'altra i ragazzi di Lallopizzi non riescono a rialzare la testa almeno per respirare un poco schiacciati dal peso dei 12 punti in classifica i biancoverdi invece sono reduci da un pareggio proprio con il Venafro squadra che ce la sta mettendo tutta per fare lo sgambetto alle dirette rivali una tra queste è senza dubbio il vasto Girardi che affronterà proprio domani la squadra di Mister Palazzo in beffa la tanto acclamata crisi economica del calcio ha sverrato alcuni interessanti colpi di mercato in premisi il portiere Splendido e adesso Minotti e Fraraccio vedine di notevole importanza per l'equilibrio agonistico in Alto Molise a tratti precari o soprattutto dopo il pareggio in casa della Cliternina anche il Venafro vorrà rimarcare con l'altra Alto Molisana il Fornelli e chissà che voglia proprio ricominciare dal Ditella a Roseto Valfoltore invece andrà in scena una delicata partita in termini di classifica il Roseto al momento a 17 punti ospiterà la Cliternina che bene ha fatto lo scorso weekend incassando un punticino di tutto rispetto e che ora è a due lunghezze dall'avversario i pugliesi cercheranno di riprendere in mano le redini del campionato dopo lo stop della scorsa settimana contro il nuovo Montaquila squadra che a poco a poco dopo una partenza in sordina sta recuperando terreno altro match delicato quello cui si assisterà al caracciolo tra Santeliana e Montaquila a 17 punti contro 16 una partita questa che avrà la missione di inanellare per bene le posizioni in classifica nel massimo torneo regionale sesto incontro in programma con Prensorio Vairano Gambatesa i padroni di casa hanno battuto per 2 a 0 i diretti compagni di bassa quota e con almeno un morale forse un po' più alto vorranno fare bene contro i molisani mister Totaro invece più che pensare all'allenamento fisico in sé seppure imprescindibile è bene che lavori e tanto anche sul carattere della squadra fin qui alquanto arrendevole coraggio e buona domenica di sport ultima d'andata anche nel campionato di promozione vediamo il calendario Acli Rocca Sicura Castelmauro Maronea Molise Torre Magliano Nuova Vinchiatura Civita Nova Riccia Toro Cerce Maggiore Campodipietra Sporting Matese Real Termoli Spinete Casal Nuovo solo due gli anticipi che si stanno giocando esattamente Sporting Matese Real Termoli e Acli Rocca Sicura questa gara potete seguirla anche sul canale 112 Tele Molise Sport la ditta Impianti e Sport gioca a gio anche quest'anno ha segnato la borsa di studio per studenti ed atleti quest'anno vinta da Pasquale Andreola della Polisportiva Molise noi lo abbiamo avvicinato Pasquale Andreola atleta della Polisportiva Molise quindi parliamo di atletica hai vinto quest'anno grazie ai tuoi meriti sportivi e scolastici la borsa di studio Angelo De Bernardo un bel riconoscimento per te che comunque studi tanto e ti alleni anche tanto sì comunque credo che bisogna ringraziare sia i professori che mi hanno seguito lungo questo corso di studi sia comunque i miei allenatori quindi ringrazio tutti i professori che ho trovato lungo il mio cammino che comunque credo che questo sia un grande segno soprattutto per chi come me cerca e crede nei valori dello sport e comunque si allenano costantemente perché innanzitutto la vittoria di questa borsa di studio per me come per qualsiasi altro atleta in sala è fondamentale perché simboleggia la volontà di ogni ragazzo di aderire sia allo sport che di crearsi una propria cultura che è quello l'importante come riesci a conciliare proprio i tuoi impegni scolastici con quelli sportivi visto che comunque richiedono anche molto impegno l'atletica io credo che comunque nel biennio sia stata abbastanza dura nei primi due anni di scuola superiore e ho dovuto fare parecchi sacrifici soprattutto contando che dalla terza media al primo superiore ho dovuto anche intensificare gli allenamenti proprio sotto il punto di vista del tempo che vi impiegavo credo comunque che sia tutta una questione di testa nel senso che se tu ci credi veramente in quello che fai se credi che l'allenamento ti possa rendere una persona migliore credo che poi i risultati a scuola vengano da sé perché alla fine te lo riesci a ritagliare un po' di tempo anche per studiare voglio dire certo comunque la scuola è impegnativa soprattutto se vuoi rendere a certi livelli però credo che l'impegno sia quella cosa fondamentale che serve Per quanto riguarda invece i tuoi traguardi sportivi la cosa è un po' più complicata perché i traguardi sportivi non si raggiungono solo dopo un'interrogazione o dopo un compito in classe ma bisogna lavorarci su per molto tempo nel mio caso per raggiungere questo record ho lavorato un anno intero perché comunque era una gara obiettivo e quindi bisogna allenarsi tanto veramente tanto e altrimenti non riesci ad arrivare a certi livelli come un record regionale nel mio caso E adesso vediamo tutte le partite in programma in prima e seconda categoria Prima categoria Girone Asa Niti Forlum Carullo Montenero Cero Alvolturno Coglie Alvolturno Macchia Carpinone Pizzone Pesche Real Prata Sestolese San Pietro Avellana Rufre Riposa il Conca Casale Si vive l'undicesima giornata nel girone B Fossaltese Cerce Maggiore Macchia Valfortore Colle Danchise Mirabello Baranello Ratino Pietra Montecorvino Real Girdone Murgansia Ripa Limosani Boissi Elzi Volturino Pietracatella Passiamo al girone C dodicesima giornata Campobasso Calcio Sant'Angelo Campomarino Frentania Endas Lupetti Guglionesi Fiammalarino Ururi Quartiere Campobasso Nord Santo Stefano San Martino Petacciatese Sporting Termoli Colle Torto Turno di riposo per il San Giacomo Scendiamo in seconda Categoria Undicesima giornata Mignano Desisto Donche Sagnone Valle Agricola Matese Sangro Calcio Monteroduni Mastrati Pesco Pennataro Ala Fidelis Filignano San Giorgio Scapoli Riposa Il CEP Parliamo del girone A Nel girone B Amatori Boiano Bagnolese Chiauci Torella Macchia Godena Macchia Godena Questo è il derby tra la gioventù e l'altra compagine di Macchia Godena Pesco Lanciano San Pietro in Valle Rocca Mandolfi Castro Pignano Salcito Sant'Angelo Riposa Il Torella Del Sannio Girone C Campolieto Valle del Tamaro Carlantino Riccia Celenzia Montagano Rinascita Bussese Fiamma Folgore Rez San Giovanni Ingaldo San Marco Lacatola Trearchi Riposa Il Gamba Tesa Infine il girone D Con Limosano Ripa Bottoni Castellino Isola Croata Mundimitar Munksufuni Quattro Torri Porto Cannone Rotello Roccavivara San Felice Mafalda Riposa Il Terventum Vi ricordo Gli appuntamenti Con lo sport Sulla nostra emittente Domani alle ore 14.25 A tutto campo In diretta Dalla tribuna stampa Dello stadio Lancellotta Di Isernia Poi ancora Dal campo Marchese del Prete Di Venafro E da tutti gli altri campi Dove giocano Le squadre Molisane Alle 18 Domani pomeriggio 964 Puntata Di Domenica Sport Fatti commenti Interviste Immagini Alla Domenica Sportiva Vi segnalo anche I nostri highlights I gol della domenica Domani sera A partire dalle ore 22 E' tutto Per questa edizione Del nostro TG Sport Buon pomeriggio E soprattutto Ricordate Chi vuole Può venire in redazione A ritirare Il nostro calendario 2014 Assolutamente In maniera Gratuita E' tutto Buon pomeriggio Al prossimo Grazie per la visione!